salve a tu e benvenuti in un nuovo video a s m r oggi pensavo di rilassarvi con un po di brushing quindi mettetevi in un posto comodo comodo e rilassatevi 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 Grazie. Grazie. Mettiti in un posto comodo e rilassati, rilassati. Grazie. 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 Rilassati, rilassati, rilassati. Grazie. 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 Rilassati, rilassati, liberati dai tuoi problemi, dai tuoi pensieri e rilassati. Grazie. Sì, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.